buona sera a tutti sono luigio naracusa per video benvenuti su battle versione global edge up con l'analisi di jesa che stanno uscendo tra la fine dei festeggiamenti busaga e l'inizio dei festeggiamenti gokudei già partiamo molto bene perché abbiamo alcuni dei migliori pc del gioco obiettivamente uno è probabilmente il miglior tour del gioco una bestia di satana che sono anche felice di vedere a questi livelli dovendo essere sincero c'è davvero un qualcosa di decisamente interessanti ma andiamo andiamo con ordine in tutto quanto quello che dobbiamo parlare parleremo in questo video di bub beyond quindi bu majin bu buono exchange majin bu evil quindi grasso exchange magro scusate pg che alla fin fine all'epoca diede una bella scossa extreme tech pg che mi è sempre più acciucchiato seppur alla fin fine all'epoca utilizzai prevalentemente gothens ancora ancora uscire in una pasqua che era a roma ricordo ancora usci per utilizzare i presenti gothens per le road perché stannava questo bu però un po d'aiuto me lo diede sebbene era l'unico ipg che non facevo mai raggiungere la forma finale se non per chiudere lo tengo molto in evil bu a sto giro invece è diventato nel fondo super bu come vedremo dei migliori pc da gioco oggettivamente una bestia di satana che non ha il minimo senso di esistere ma ripeto andiamo con ordine bu majin power 4 che c'è un 70 per cento o artificial 3 che c'è un 70 per cento ottimo un altro leader artificial fanno sempre bene leader artificial sono sempre un qualcosa di positivo secondo me in quanto non sono scontati ma permettono di gestirsela abbastanza nel modo giusto artificial è in tutto sommato un team che ha bisogno molto spesso di avere qualcosina come vantaggio come aiuto non è proprio il team che può cavarsela senza alcun problema da solo però mai dire mai c'è anche molto di peggio se non c'è anche molto di peggio lo conosciamo tutti cosa ci può essere andando a realizzare nel dettaglio invece la passiva nella forma base quindi nella forma di bu abbiamo chi più tre e attacchi di 35 per cento 50 sono di attacco al momento del lancio della specie a 40 vede mesi redaction e se c'è un altro maggi in power nel suo turno se che arriva al 70 per cento ottimo ottimo non c'è nulla che si può dire di negativo anzi stampa cede mesi redaction in power magic power e di sicuro un qualcosa di uno buono e di due che oggettivamente serviva c'è dire che oggettivamente serviva al team in quanto abbiamo visto anche nello scorso video che magic power non è messo male ma può essere messo decisamente meglio decisamente meglio andiamo quindi avanti abbiamo attacchi del 50 per cento quando ci sono no magic power nemici questo è abbastanza semplice che si attivi basta che non avete nemici e avete un ulteriore busta alle stats easy 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 nemon squeezy come si suol dire quindi buono buono tranquillo anche questo ottimo così abbiamo poi cambio al momento in cui le condizioni vengono raggiunte che è a partire dal terzo turno quindi molto semplicemente la seconda volta che vi arriverà lui arriverà lì e exchange con evil bu allora in questa fase è già un netto miglioramento dal presa il presa ragazzi aveva un quale damage reduction e non aveva buste difensivi ora li abbiamo ora abbiamo un bel po di buste difensivi abbiamo effetto kaioken no scusate non abbiamo effetto kaioken abbiamo un grande aumento d'attacco aumento la difesa per un turno di certo tanca poi per carità non tanca qualsiasi cosa ha le sue limitazioni perché ha le sue limitazioni ma non siamo davanti a un pc perfetto ne penso che nessuno si aspettasse da questo bu di diventare il miglior pg del gioco comunque un qualcosa di barato a chissà che livelli soprattutto a mio avviso nella forma base dove il pg presenta alcune limitazioni però già come iniziare un buon 200 per cento di difesa con 100 per cento di dimensione d'action su ulteriore momento la difesa lancia la special abbiamo iniziato bene momento in cui effettare exchange diventa evil boo qua guadagniamo 200 per cento d'attacco 150 per cento di difesa e tre chi ottimo 70 per cento di attacco lancio della special ottimo 40 per cento di damage reduction che diventa 70 per cento con un altro margin power quindi questa parte qua rimane uguale ciò più attacco di difesa se non avete nemici margin power grandi chance quindi 70 per cento di stan al nemico e 50 per cento di evasione qua guadagniamo l'evasione ulteriormente questo è davvero interessante perché ottiene un ulteriore miglioramento già questa era la forma che preferivo ma aveva altissime limitazioni cavali nella forma basica 40 per cento di damage reduction 5 per cento di attacco 30 per cento di stun no guarda 5 per cento di stun e 30 per cento di eva quindi era davvero un giocare col fuoco in questa forma hanno corretto il problema principale ovvero l'evasione l'evasione e la difesa abbiamo aumentato a 50 per cento l'evasione che adesso almeno ha un minimo di senso logico di esistere perché oggettivamente ragazzi non me ne vogliate ma non vedo in quale universo avesse senso un 30 per cento di l'evasione aumenta la difesa per tre turni a lancio della special aumenta di molto l'attacco con effetto kaioken ha un sila l'avversario al cento per cento quindi altra cosa molto interesting e abbiamo sempre questo 70 per cento di damage reduction che non fa schifo nella forma presa ci fermavamo qua difficilmente andavamo nella forma di super boo ci fermavamo qua attualmente invece oggettivamente andrete sempre a super boo super boo si attiverà nel momento in cui avete più del salto per cento di attacco quando saranno passati quattro turni dall'exchange e super boo è tanta roba super boo è tantissima roba cadete che presa era un 5 per cento di damage reduction con un critico il 12 per cento per rainbow e 220 per cento di attacco quindi voi preferivate avere quel 30 per cento dannatissimo di eva per andare in questa forma adesso abbiamo 250 per cento di attacco e 200 per cento di difesa attacco che era a doppio al momento lancio della special 5 per cento di quando avete un altro margin power ma segreto noi lo giocheremo quasi sempre con un altro margin power se non se non lo giocheremo sempre con un altro margin power non quasi sempre giocheremo sempre con un altro margin power abbiamo poi 50 per cento di attacco e 25 per cento di critico per ogni orb rainbow presa quindi ragazze potrebbero darlo additional come non nessuno quasi affatto perché tutti avrebbero dato in critico perché tanto non si usava in questa forma quindi ancora una volta l'abbiamo presa nei cosiddetti ma ormai oggettivamente io reputo che siamo abituati che gli esa mandino abbastanza a quel paese tutte le nostre convinzioni certezze e speranze nella parte dell'ambiente ma vabbè non è un problema ormai io personalmente sono abituato a queste cose quindi se la vi come si vuol dire se la vi però ragazzi siamo di fronte davvero una bestia super il milione di difesa con stamp 100 mesi d'action e senza ombra di dubbio di migliori pc del gioco superi 25 milioni di attacco è davvero una cosa barata unico punto debole se vogliamo definirlo tale e che non è attivo dal turno 1 non essere attivo turno 1 ha delle limitazioni in eventi brevi perché comunque dovete beccare sette turni di altri pc però alla fin fine se ci pensate tutto sommato non va a cambiare più di tanto perché per quanto possa non essere in questa forma eventi brevi non sono tanti gli eventi brevi oggi che si vanno a fare e la difficoltà degli stessi è abbastanza in influente quindi di sicuro il personaggio ha davanti a sé una lunga strada e penso che per molto tempo per decisamente molto tempo rimarrà tra i migliori periodi del gioco oggettivamente a oggi ragazzi ve lo dico davvero è difficile fare una tier list se dovessimo mettere gli esa separati dai super da i dhokan fest perché i pg dhokan fest che escono stanno venendo pesantemente buttati giù da i esa e super esa che sono oggettivamente migliori oggettivamente sono migliori che può apparire nel gioco tramite super esa pensiamo agli ultimi goku e bu stanno sotto gohan e bu se parliamo di chiesa nel caso di gongo costa pesantemente con ne vedremo il prossimo video ma è un qualcosa di imbarazzante nel senso positivo per una volta meno nel senso positivo tutto questo ritmi voi cosa ne pensate siete d'accordo non siete d'accordo e noi ci vediamo nei prossimi giorni con l'analisi di gohan e ragazzi il ritorno dovuto probabilmente del miglior pg del gioco a mani abbastanza basse alla prossima